ciao a tutti e benvenuti sul mio canale oggi siamo qui con un nuovo video dedicato a fifa 18 in particolare continueremo la nostra carriera con il brescia e andremo a giocare la finale di champions league contro l'atletico madrid finalmente siamo arrivati alla partita più importante siamo alla quindicesima stagione quindi questa è l'ultima possibilità di vincerla adesso scegliamo intanto le divise ok e adesso andiamo subito a giocare questa finale c'è grande attesa grande tensione ma anche grande voglia di vincerla ci sono andato vicino una volta ma purtroppo ai rigori il sogno era svanito e adesso spero che invece il sogno diventi realtà questa competizione può salire sul tetto d'europa il sogno di tutti vincere la champions league e spero anch'io con il brescia di vincere questa coppa storica quindi andiamo subito in campo si gioca allo stadio olimpico di roma quindi diciamo che abbiamo anche un vantaggio perché si gioca alla finale in italia e andiamo a giocare appunto questa partita contro gli spagnoli dell'atletico madrid inizia questa finale di champions league titolare si schierano col tasto 433 attaccanti esterni attenzione subito l'atletico in avanti tiro fortunatamente fuori dobbiamo stare molto attenti perché l'atletico è veramente una squadra temibile ernantes alla girata sulla corsia lascio attenzione adesso è l'atletico che riparte la fascia non siamo riusciti a fermarlo però adesso si sia figlia da lui di questa partita non è facile non è stato facile perché ovviamente una finale sempre molto difficile da giocare non si può sbagliare nulla vai goresca passa a mbappé rush ford rush ford tardepal attenzione all'atletico che riparte attenzione all'atletico in mezzo via da lì abbiamo messo in angolo sono attenzione all'atletico va a battere questo angolo riusciamo a sventare questa occasione loro e ripartiamo in contropiede goresca alilovic alilovic rush ford rush ford bappé bappé e dalilovic attenzione bentancur anticipato peccato e riparte l'atletico nuovamente al 21esimo sempre 0-0 ma quando partono loro è sempre un rischio attenzione traverso doppia traversa cosa abbiamo rischiato per due traverse in pochi secondi devo dire che qui dobbiamo ringraziare i legni ma diciamo che ogni tanto la fortuna ci sta tanto rush ford si è infortunato speriamo niente di grave mettiamo noi quest'azione attenzione 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 vantaggio tantissimo ed è sempre così prima poco prima abbiamo rischiato e poi li abbiamo puniti ma rivediamo goresca la squadra di assalio ecco chi era di rimessa e poi bocca da solo mio non poteva sbagliare da di lì al trentesimo sono in vantaggio abbiamo raccord infortunato ma al momento preferisco comunque lasciarlo in campo occhio cerca l'area di rigore adesso l'atletico ovviamente cercherà disparatamente di recuperare questa partita ottimo il dè vai vabbè sapevamo che è lui il nostro giocatore più rappresentativo che può decidere e fare la differenza in queste partite infatti il momento è stato così attenzione Bellerin e riparte l'atletico stiamo facendo una bellissima prestazione Bappé Rashford Goresca Bappé 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 si ferma aspetta l'inferimento di qualcuno Goresca Alilovic Alilovic che tiro bellissimo è parata anche altrettanto bella del portiere dell'atletico partiamo quest'angolo attenzione Le Mar Bappé si è anticipato all'ultimo attenzione si è ed è raddoppio proprio lo scadere dal primo tempo e chi è che è segnato 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 Bappé doppietta personale finora ed è il raddoppio davvero un impatto devastante sulla ripresa avversaria eh sì impatto devastante Bappé è veramente un top player incredibile e finisce Bappé adesso il primo tempo 2-0 è un ottimo vantaggio questo 2-0 quindi nel secondo tempo potremo gestire la situazione anche e andiamo subito a giocare la ripresa battiamo noi il calcio di inizio di questo secondo tempo bellerina che dobbiamo lo stesso restare concentrati che non si sa mai l'ultimo fino alla fine il contratto riuscito il retico ovviamente non mollerà e tenterà di recuperare questo risultato infatti eccoli qui chi attaccano dobbiamo di affermarli uh parata di Raffone e ripartiamo con Hernandez Lemar che però sbaglia attenzione ancora l'atletico che adesso si butta completamente in avanti ma noi adesso potremmo quindi approfittare e ripartire con questi contropiede attenzione Rashford anticipato e adesso ancora l'atletico che trova questa azione sulla Foscia entra in aria e riusciamo a liberare bene 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 bravo Lemar bravo Lemar che dice guadagnare una punizione per provare a rimettere almeno in pari primi cambi da parte dell'atletico che le state orientando tutte in modo di recuperare ma noi siamo ancora in vantaggio al 61esimo 2 a 0 dai 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 aiaiaiai questa deve essere pericolosa ma riusciamo a liberare l'aria ancora l'atletico è bravissimo recuperiamo Lemar Fernandez ancora l'atletico la Foscia attenzione tra in mezzo uuuuh tiro deviato angolo per l'atletico attenzione un difensore è noto sulla linea mette ancora in angolo fortunatamente anche questa azione è andata bene però non riusciamo più a tenere molto palla in avanti tenere la palla quindi l'atletico ovviamente sta spingendo è in faro e infatti come previsto accorciano 2 a 1 attenzione al 75esimo non ci voleva adesso ci aspettano minuti di sofferenza comunque bravo Bellerin attenzione Bappé Betancourt uh cosa ha sbagliato Betancourt potevamo chiuderla sul 3 a 1 invece niente 3 a 1 sarebbe stato fondamentale invece adesso dobbiamo ancora soffrire 78esimo sempre 2 a 1 ma l'atletico ovviamente attacchiera di brutto ma riusciamo liberare bene 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 a Linovic Linovic niente da fare tettico recupera palla vai in avanti attenzione uh che rischio parata di da fondo attenzione ancora loro uh riusciamo a recuperare dai attenzione gestiamo bene questo pallone siamo veramente verso la fine di questa partita quindi non dobbiamo assolutamente sbagliare nulla stanno facendo girare bene il pallone oggi Goresca Goresca Betancourt attenzione cosa ha parato il portiere loro ora siamo a recupero di questa partita attenzione Rashford Goresca Betancourt aspetta che arriva proprio in questo momento e abbiamo vinto la Champions League si ce l'abbiamo fatta grande gioia un'emozione enorme del pubblico dell'allenatore ma soprattutto dei protagonisti è un momento meraviglioso potremmo anche lasciar parlare le immagini la gioia è una cosa incredibile finalmente ci siamo riusciti alla quindicesima stagione iniziano i festeggiamenti adesso andiamo a vedere la premiazione il nostro capitano Lemar alzerà il trofeo eccoci qui ecco Lemar che alza la Champions League grande gioia grande Brescia che restava scolpita il ricordo i momenti di ogni giocatore quindi chiudiamo alla grande queste quindici stagioni fatte con questa squadra giro di campo con la coppa che soddisfazione incredibile quindi riusciamo a vincere questa finale finalmente altro trofeo importante che va a giungersi alla nostra bacheca ok quindi andiamo avanti direi che per questo video è tutto se vi è piaciuto lasciate un like mi raccomando e alla prossima grazie a tutti